Passiamo alla politica. Prima seduta del Consiglio Comunale di Bolzano, Helmut Rizzolli, rimane escluso. Colpo di scena nella prima seduta del Consiglio Comunale Bolzanino, Helmut Rizzolli non entra in Consiglio. I consigliari hanno decretato la sua non elegibilità. Sull'esponente della SVP pendeva il dubbio di inelegibilità per non essersi dimesso da Presidente della Fondazione Castelli prima delle elezioni. Rizzolli avrebbe avuto bisogno di 24 voti a favore per ottenere la convalida ed invece ne ha ottenuti 23. Insieme ai 17 voti contrari, 4 schede bianche e 2 voti nulli. Decisivo il voto di alcuni franchi tiratori tra SVP, PD e gruppo di maggioranza. Per Helmut Rizzolli dunque niente Consiglio Comunale. Al suo posto subentrerà Silvia Hofer prima dei non eletti. Nella prima seduta di Consiglio c'è stato poi il debutto di una serie di nuovi consiglieri come i deputati Michela Biancofiore e Giorgio Oltzman, PDL, i consiglieri provinciali Alessandro Orzi, PDL e Elena Artioli, Lega e Donato Seppi di Unitalia. Intanto proseguono le trattative di giunta fra il sindaco di Bolzano Spagnoli e i partiti che la scorsa legislatura costituivano il gruppo ecosociali, ovvero Verdi, PRC, Socialisti e SEL. Questi ultimi hanno consegnato una lettera al primo cittadino esprimendo la contrarietà alla chiamata di un assessore esterno.